Speriamo che sia l'ultima volta, perché c'è gente che ha casa senza lavoro e senza pensione, sono stupo di venire sotto questo cazzo di ministero. Ah, chiediamolo a Renzi, mare in pensione dopo 40 anni di lavoro mi sembra sacrosanto. No, però è preoccupante il fatto dei soldi. Non si capisce dove sono, ma è tre anni che stiamo cercando di farcene carico, quindi spero che sia l'ultima volta.